Per me l'Unione Europea è un insieme di paesi e di persone che non devono dimenticare di essere parte di un mondo. EU significa famiglia, siamo tutti uniti, quindi bisogna essere stabili, forti e amici. Per me l'Unione Europea significa comunità, è un gruppo di paesi che tenta aiutare in economia e socialmente, modi e modiare. È una cosa davvero bella per le persone come me, che vogliono vedere più del mondo, invece di restare nel loro paese, e è una davvero bella occasione di trovare molta cultura nella loro vita. Per me l'Europa è solo un modo di organizzarsi, di limitare il paese, per l'economia, per la gente, eccetera. Per me l'Unione Europea significa un'opportunità non solo di riconoscere i nostri conhecimenti, ma anche di riconoscere a molti giovani, di riconoscere altre culturazioni, di riconoscere e di riconoscere i nostri problemi, di riconoscere i nostri problemi, di riconoscere i nostri programmi come Erasmus+, e di riconoscere i nostri problemi. La Unione Europea, per me, è una forma di unificare i suforzi, in modo di rispettare le diverse culturazioni e le diverse politiche. La Unione Europea, per me, è una forma di unificare i suforzi, in modo di rispettare i suforzi, in modo di rispettare i suforzi e collaborare economico e finanziamenti. Per me l'Unione Europea, per me, è una forma di unificare i nostri problemi, in modo di rispettare i nostri problemi, nella nostraaba